Ora vi proponiamo una ricostruzione della sequenza del ferimento del sindaco di Girolamo sulla base delle immagini girate da una delle nostre telecamere che era proprio a poca distanza dal punto degli scontri. Allora vediamo insieme con Minolo Russo. Queste che vi proponiamo sono le immagini riprese da una telecamera della RAI relative alla sequenza dello scontro tra polizie e manifestanti avvenuto davanti alla stazione ferroviaria di Terni. Sono momenti di grande tensione. Davanti all'ingresso della biglietteria un cordone di poliziotti impedisce l'ingresso ai manifestanti. In testa c'è il sindaco di Terni, Leopoldo di Girolamo coperto nella sequenza da uno scudo protettivo di un poliziotto. Fermando le immagini si intravede sulla sinistra dello schermo e a notevole distanza un ombrello posizionato alle spalle del sindaco, indicato dalla freccia. Davanti a lui una mano guantata brandisce un manganello. È in questo momento che il sindaco viene colpito. La scena infatti subito dopo si apre e mostra Leopoldo di Girolamo girato di schiena e con una vistosa ferita al capo. Pochi secondi dopo il sindaco si porta le mani alla testa insanguinata.